Un programma diurno per gli anziani affetti da demenzia e alzheimer è stato creato qui nella sede della Canadian Believolent Association of Ontario, un'associazione creata da un gruppo di calabresi per svolgere programmi come questo rivolto agli anziani e altre iniziative sempre a beneficio della comunità. Il programma per gli anziani affetti da demenzia e alzheimer sarà curato dal costicon personale specializzato. Un'associazione di business e professioni di calabresi origin che hanno un grande desiree di fare community development e, in questo caso, di creare programmi per i ragazzi con i dimentia in l'italiano. Il programma è ora open, è stato organizzato da Costi Immigrant Services e è stato runato in l'italiano. Quali famiglia con un senior che ha problemi con la demenzia può ringraziare a Costi Immigrant Services per trovare i dettagli su come il loro membro di famiglia essere elegibile. Con me è Vincenzo Pietropavolo, responsabile del programma di salute mentale del Costi. per parlare del programma diurno che è stato realizzato qui alla Canadian Benevol Association of Ontario su iniziativa di questa organizzazione che vuole aiutare gli anziani. Chiediamo al signor Pietropavolo come si articolerà questo programma e quali saranno i benefici per i partecipanti, per gli anziani che soffrono di demenzia e alzheimer. in cui dovete farlo in inglese? Siamo molto felice di partire con il CBAO e offrire alla comunità italiana un programma che aiuterà a stimolare la mente. e offrirà alcune diverse attività e eventi che aiutano aiutare gli anziani con l'alzheimer, per esempio, come musica. You said the race. Yeah, I already said the race. What do you suggest to people who have mild form of dementia and Alzheimer in order to keep the brain active? One of the most important things that we know is socialization. Socialization is embedded in the community, family celebrations. So having seniors with mild cognitive impairments or memory loss or early dementia, putting them in a safe environment with opportunities to socialize, stimulate the mind, tell stories, listen to stories and interact with other seniors is a wonderful opportunity to help manage the illness, as well as help family members with respite care and give them an opportunity and some relief as they are caring for their loved ones. Ringraziamo Vincenzo Pietropaolo per le delucidazioni. Per quanto riguarda la partecipazione a questo programma, vi diamo i numeri di telefono e i riferimenti, così potete contattare l'organizzazione e se avete qualche anziano che appunto ha bisogno del programma diurno, saranno ben liedi di prenderlo in considerazione. Potremmo contattare il Centro di mental health costi a 416-244-7714. Grazie Vincenzo Pietropaolo, responsabile dei servizi mentali del Costi.